Continua la preparazione qui allo Sport Hotel Veronello, come potete vedere alle mie spalle i ragazzi stanno svolgendo una partitella agli ordini di mister Corini dopo aver svolto un lavoro fisico basato sulla potenza e sulla resistenza. Quella di oggi è la prima seduta di allenamento della settimana in vista della gara di domenica al Bentegodi contro la Sampdoria, gara che sarà peraltro l'ultima del 2013 in casa. Non saranno sicuramente della partita Calello e Clayton, il difensore brasiliano comunque è vicino al rientro in gruppo, rientro che dovrebbe coincidere con la fine di questa settimana e mancherà anche il terzino sinistro, tra me squalificato. Tra i giocatori più in forma c'è Cristian Pugioni, il portierone gialloblu è arrivato ormai a 500 minuti di imbattibilità, non si tratta del primo record per il portiere genovese, infatti nel 2006 quando militava nel Pisa aveva raggiunto record di imbattibilità a fine del girone d'andata, risultando il portiere meno battuto di tutta Europa. L'anno scorso è stato grandissimo protagonista nelle file della Sampdoria, quest'anno è uno dei titolari gialloblu, oggi ha parlato ai nostri microfoni Marcello Estigarribia, riascoltiamo le parole tra passato e presente del centrocampista paraguaiano. Marcello, tre vittorie in altre tante partite da quando è arrivato Corini, vi immaginavate un inizio come questo? Veramente no, però quando è arrivato l'allenatore credo che la squadra si è messa a disposizione di lui e credo che lo abbiamo dimostrato in queste tre partite, però sappiamo che ancora manca tanti che tre settimane fa eravamo alla merda e oggi non siamo nessun fenomeno, ancora dobbiamo lavorare tanti e cercare di fare meglio ogni giorno in allenamento e dimostrarlo sul campo ogni domenica. Oltre al modulo c'è anche l'aspetto mentale, adesso l'entusiasmo è ovviamente altissimo, come si rimane con i piedi per terra? È inevitabile che dopo tre vittorie uno c'è la mentalità di cercare di sempre vincere, adesso abbiamo la mentalità di vincere sempre, però sappiamo ancora che manca tanti, che questo non è una carriera di cento metri lungo e manca tanti partite e sappiamo che siamo solo a due punti di rientrare di nuovo a stare indietro, però sappiamo che stiamo facendo bene e ogni allenamento cercamo di fare il meglio possibile e cercare anche di ascoltare al mister lo che dice e farlo bene anche sul campo. Domenica sfidi il tuo passato, l'anno scorso è stato protagonista di un'ottima stagione con la Sampdoria, a cosa bisogna stare maggiormente attenti nella sfida di Domenica? Sì, sono gli stessi giocatori, è arrivato solo qualcuno, però credo che la Sampdoria adesso con il nuovo allenatore ha cambiato anche il modulo di giocare, davanti sono veloci, pelicoloso e dobbiamo cercare di stare attenti sempre, però credo che anche dietro lasciano qualche spazio e dobbiamo cercare di fruttarlo quello e quando abbiamo l'occasione cercare di fare gol. Un appuntamento importante, domani all'ora 18 la palazzina Masprone, i giocatori, lo staff e tutti i dirigenti della società gialloblu saranno infatti ospiti del Vescovo Zenti per gli auguri di Natale prima delle festività. Oltre ai gialloblu saranno presenti anche le altre realtà sportive scaligere. Anche per oggi Veronello News finisce qui, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è per venerdì 13 dicembre.